La Cigella e la Will si preparano allo sciopero generale del 29 novembre, quando per otto ore i lavoratori incroceranno le braccia. Nel mirino della contestazione la manovra di bilancio 2025, considerata inadeguata a risolvere i problemi del paese. Le condizioni dei lavoratori, infatti, spiegano dal sindacato, si sono fortemente aggravate a causa delle scelte del governo Meloni, sia sul piano delle politiche generali che sul piano contrattuale. Appuntamento quindi in piazza Mancini, poi la manifestazione si chiuderà in piazza Matteotti, dove è atteso anche l'intervento del segretario nazionale della Will Pierpaolo Bombardieri. A fornire i dettagli della mobilitazione nel corso della conferenza stampa indetta sul tema sono il segretario generale della Will Napoli e Campania Giovanni Sgambati e quello della Cigella Napoli e Campania Nicola Ricci. Uno sciopero quello di venerdì importante che vede molte piazze italiane scenderò in piazza per dire no alla manovra del governo Meloni che non interessa in maniera così forte quella che è il tema dei salari, il potere d'acquisto, non dà risposta alle pensionate e pensionati, non dà risposta alla sanità, all'istruzione e per quanto riguarda la Campania siamo preoccupati su tutto quello di disinvestimento sulle politiche industriali. Abbiamo comparti importanti e il governo mette a disposizione solo 100 milioni. Sarà una larga e partecipata manifestazione immaginiamo, abbiamo 100 pullman, quello che noi riteniamo utile che dal mezzogiorno c'è un mondo del lavoro che non si fa comandare, noi vogliamo che si governi questo paese e soprattutto per difendere il nostro apparato produttivo che è fortemente messo in discussione, Stellantis, Leonardo e più si aggiungono i temi sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica e sui trasporti. Insomma si annuncia una giornata di passione.